Dopo i prolungamenti dei contratti di Tagordò, Corapi ed Evacuo, il Trapani prosegue nella sua campagna di potenziamento. Il direttore sportivo Raffaele Rubino ha infatti concluso le trattative per il passaggio in granata dell'attaccante Giacomo Tulli proveniente dal Teramo. Il neocalciatore del Trapani usa molto il fisico e mette in difficoltà le difese avversarie con i suoi movimenti. Ha iniziato nel professionismo 12 anni addietro con la fermana squadra della sua città. Dopo una esperienza nella San Benedettese è esploso nel Mezzocorona in seconda divisione. A seguire il doppio salto di categoria in C a Rimini e in B col Vicenza. Dal 2012 al 2013 ha giocato col Pisa segnando 10 reti in 40 gare. Poi il ritorno al Vicenza prima di andare ad Ancona con 6 reti in 32 partite. Successivamente due stagioni al Sud Tirol, 11 marcature in 66 gare. Infine il passaggio al Teramo nello scorso campionato con 28 presenze. Tulli ha giocato 19 volte da titolare e subentrato 9 volte sostituito in 14 occasioni. Adesso è il momento del Trapani.